Buonasera a tutti, innanzitutto desidero ringraziare il Muse per questa opportunità di poter presentare il nostro progetto Shelly e anche il pittore e l'artista Matteo Boato per la location e per questi bei quadri che dipingono proprio una piazza. Il nostro progetto, infatti, Shelly, si basa proprio sulle persone e le persone sono quelle persone che abitano le piazze, che abitano le città. Allora, che cos'è Shelly? Shelly è un'applicazione per mobile nata nel 2015 che dà la possibilità agli utenti di poter inviare e ricevere in tempo reale delle segnalazioni già localizzate su di una mappa inerenti ad eventuali pericoli o eventi che stanno accadendo attorno a loro. Lo spiego con un esempio. Questa mattina la Polizia Municipale di Parma, con la quale noi collaboriamo, ha praticamente individuato dei bocconi avvelenati in un'area all'interno della città di Parma. Ha dovuto recintare questa città, questa parte, diciamo, perché appunto c'era la presenza di queste esche che possono essere pericolose sia per l'uomo che per gli animali. Un utente che era appunto stato avvisato che c'erano queste esche ha segnalato sull'applicazione le esche e quindi ora c'è la possibilità di poter vedere sull'applicazione stessa la segnalazione attiva che fa sì che tutte le persone che arrivano in quel luogo ricevano una notifica e vengono visate del problema. Shelley non dà la possibilità, oltre che di segnalare i bocconi avvelenati, anche di poter segnalare altri eventi, come ad esempio i furti recenti, le persone sospette, le persone pericolose e tutte quelle, diciamo, e tutte quelle situazioni che ti permettono... Scusate. Allora, magari invito qua con me la mia collaboratrice che mi dà una mano. Grazie. Allora, ciao, io sono Claudia e ho conosciuto Andrea circa sei mesi fa tramite un'associazione in comune. Qui stiamo parlando di network, di rete, tra virgolette, quindi di un luogo anche virtuale nel quale le persone scambiano informazioni utili al senso civico. Pardon, mi sposto un po' più in qua? Ok. E, paradossalmente, io e Andrea ci siamo incontrati esattamente attraverso un passaparola, quindi una rete di persone. Io frequento qui il quarto anno di giurisprudenza e, come dire, nonostante non abbia ancora conseguito il titolo, nel momento in cui ho conosciuto Andrea e Gianluca, subito, come dire, mi hanno dato fiducia, tra virgolette, quindi mi sono buttata in questa avventura perché per me era estremamente interessante vedere come funzionasse davvero un progetto di start-up, cioè il progetto di un'azienda che nasce soprattutto in ambito giovanile e quindi volevo proprio mettermi in gioco, capire, eventualmente, anche se per il futuro ci potesse essere qualcosa di interessante per me, chissà, un giorno. E quindi ho deciso, appunto, per questo motivo, di iniziare con loro. Il mio ruolo all'interno di Shelly è appunto quello di creare relazioni, che adesso vi spiegherà Andrea, nel senso che per poter funzionare l'applicazione ha bisogno di intessere delle partnership o con le associazioni che si occupano di degrado, protezione degli animali, difesa degli animali, piuttosto che con le forze dell'ordine e i comuni. E quindi è necessario, al di là della rete virtuale, proprio di creare delle solide relazioni umane con le quali far andare avanti le informazioni che vengono trasmesse all'interno della community, che adesso vi spiegherà Andrea, naturalmente. Grazie, Claudia. In pratica, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato di creare una rete con le associazioni che sono presenti sui territori, associazioni sia di livello locale sia di livello nazionale. Con loro, praticamente, stiamo portando avanti dei progetti per andare a migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Perché? Perché noi siamo convinti che dobbiamo cercare di essere dei cittadini attivi, dei cittadini smart, di fare qualcosa per la nostra città. Shelly te lo permette, in quanto il cittadino all'interno della comunità di Shelly fa delle segnalazioni attive che avvisano gli altri cittadini di situazioni che ci sono, diciamo, di disagio, ad esempio, attorno a loro. E questo fa in modo che ci sia, appunto, una cooperazione tra le persone stesse. Le associazioni che ci stanno dando una mano a livello nazionale sono, ad esempio, l'Associazione Nazionale Antigraffiti, che è un'associazione che è di base a Milano, ma è presente in moltissime città in Italia a capoluogo e si occupa di andare a identificare i graffiti che rovinano i nostri monumenti e poi organizza delle giornate con le scuole, ad esempio, e con i volontari che vanno a pulire questi graffiti. Shelly viene utilizzata da loro per andare a segnalare la presenza di questi graffiti e poi riuscire così a mappare le città, diciamo. Poi collaboriamo con delle associazioni animaliste sia sul territorio a livello locale sia a livello nazionale. Con queste associazioni stiamo cercando di sensibilizzare la tematica dei bocconi avvelenati, che è questo fenomeno appunto di avvelenamento che viene fatto di animali a causa di esche che vengono disseminate da delle persone nei parchi piuttosto che nei boschi. Dopo un'altra cosa che noi stiamo cercando di fare è che stiamo lavorando con le amministrazioni pubbliche e con la Polizia Municipale per far sì che queste segnalazioni poi ricevano anche una risposta per il cittadino. E quindi ci sia, diciamo, il cerchio che si chiuse, il cittadino che fa la segnalazione e l'amministrazione che risponde. Ecco, Shelly è un progetto che... Start-up. Un progetto praticamente che è nato da un'idea un'idea che poi si è sviluppata nel tempo è diventata un'applicazione e l'applicazione è diventata, diciamo, una società una società con la quale si cerca di crescere. Quello che noi vogliamo fare è dare uno strumento alle persone per poter far sì che la qualità della vita nelle nostre città migliori. È uno strumento attivo e non è uno strumento passivo, diciamo, perché permette appunto di essere partecipi della vita all'interno dell'applicazione. Le emozioni che ci sono state in questo quasi due anni, diciamo, di lavoro sono state molte. Partire con una start-up non è facile, è molto difficile anzi, perché il più delle volte non si arriva neppure all'anno di vita. Noi invece, grazie anche all'aiuto proprio degli utenti stessi, dei cittadini, delle associazioni, delle aziende che ci credono, che ci stanno seguendo in questo progetto, stiamo riuscendo, diciamo, in un sogno. Ecco, possiamo chiamarlo così. In un sogno che è quello appunto di poter fare qualcosa di concreto. Ecco, Claudia, non so se vuoi aggiungere qualcosa ancora. Quello che posso dire io è di aver visto come testimonianza del lavoro di Gianluca e Andrea all'interno appunto di questa start-up che, come ha detto Andrea, assistiamo a tante start-up oggi di successo negli ultimi 15 anni, se vediamo Facebook, Amazon, eccetera, però dietro, oltre che, tra virgolette, una botta di fortuna, si sta anche un lavoro mostruoso. Quello che posso dire io da... Cioè, innanzitutto ringrazio Andrea e Gianluca per l'opportunità che mi stanno dando di vedere dal vivo, di toccare con mano come funziona, ma il fatto è che proprio la tenacia, la costanza e la passione che ci mettono e che bisogna metterci, cioè, crederci fino in fondo e giorno per giorno non mollare mai, perché magari per due anni non vedi i risultati di quello che fai, ma continui a farlo sapendo che magari, boh, tra un anno e mezzo, due anni, Shelly avrà un milione d'utenti, chi lo sa. Quindi, quindi, questo è veramente, credo sia una grande lezione di vita prima di tutto. Quindi, io finirei qui, tu vuoi dire qualcos'altro? Direi che è sufficiente, ci avete sopportato abbastanza e vi ringraziamo e speriamo, insomma, di vedervi all'interno della nostra community di Shelly. Grazie mille. Grazie mille.